E' il naufrago più stanco, Simone Susin E' il naufrago più stanco, Simone Susin Il modello siciliano risente particolarmente delle condizioni cui sottopone i concorrenti l'Isola dei Famosi, e oggi, complice una notte in bianco e la fame, ha avuto un lieve malore In suo soccorso è arrivato Raz De Gagne, che, per una volta, ha condiviso un po' della sua pesca Dopo un'intera nottata passata a vegliare il fuoco, stamattina il bello del reality show di Canale 5 ha provato a lenire un sopraggiunto fastidio allo stomaco distendendosi sulla sabbia Se stai ancora male ti regalo un pesce da mangiare Così ti passa il dolore ha detto Raz a Susin, che, sorpreso, ha deciso di spartire il dono con le amiche Nancy e Malena L'ho fatto perché hanno capito lo scopo di Samantha De Gagne e Giulio Base, ha spiegato, loro due sono quelli che hanno creato strategie e complotti Mentre il naufrago stava cucinando il pesce, gli si è avvicinata proprio la De Gagne, che non ha fatto mancare una frecciata, ma Raz ti ha donato un pesce? Da nemico giurato ad amici No